Sportello Universo Donna, siamo in compagnia di Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'associazione Stella Maris. L'importanza di veicolare i contenuti del vostro impegno, quindi la campagna contro la violenza sulle donne innanzitutto, anche attraverso le scuole. Cercando veramente di informare i più piccoli, i più giovani a una cultura del rispetto della donna. Sì, infatti insieme a tutto lo staff tecnico di cui dispone l'associazione Stella Maris, ma nello specifico lo sportello Universo Donna, quindi insieme agli avvocati, ai psicologi, ai mediatori culturali e familiari, abbiamo messo su un progettino che verrà poi presentato e tutti i presidi nelle scuole perché credo che sia importantissimo intervenire soprattutto tra i giovani della scuola media, inferiore e superiore. Professoressa Carmela Sorrentino, lei ha insegnato storia dell'arte e quindi sa benissimo l'importanza... ...di Taranto, sono stata anche insegnante nelle scuole medie e inferiori, ma ho concluso nelle scuole medie e superiori, per cui conosco la realtà del... E quindi l'importanza di informare i discenti a una cultura di rispetto della donna. È importante lo strumento proprio della penetrazione nelle scuole? Certo, è necessario, non è importante, perché è in quella fascia d'età, dell'infanzia e dell'adolescenza, che si vanno a costruire quel rispetto, quella tolleranza, ma io direi rispetto in assoluto, verso tutto e soprattutto verso un pari genere, quale è quello maschile e quello femminile, perché qui stiamo parlando di entrambi i generi, che devono rispettarsi a vicenda pur rispettando le proprie diversità fisiche. E quindi chi ha più forza fisica deve capire che non può essere superiore a chi strutturalmente ne ha di meno. E questa cosa bisogna inculcarla nei giovani. Lo dovrebbero fare le famiglie, lo fanno le famiglie, ma la scuola è importante, perché è il primo grande momento sociale di aggregazione dei giovani dell'età evolutiva. La scuola è la scuola è la scuola.